Buongiorno, oggi prepareremo una mousse al cioccolato, detta alla maniera francese, una mousse au chocolat. Una mousse un po' diversa magari da quella che normalmente si fa a casa, non utilizzerò la panna. Piatto anche molto semplice da fare, basta avere del cioccolato fondente e delle uova e una noce di burro, semplicissimo. Ingredienti che ve lo sai in questo periodo in casa, ci ritroviamo tutti quanti. Inizierò con lo sciogliere, il cioccolato a bagnomaria. Nel frattempo che noi prepareremo poi l'albume d'uovo montato a neve, intanto il cioccolato si scioglierà. Aumentiamo la nostra fiamma. Le tre uova verranno distribuite in questo modo. Utilizzeremo tutti i bianchi, che andremo poi a montare a neve. E in un solo rosso. Adesso iniziamo a montare i nostri albumi. Abbiamo montato i nostri albumi a neve. Adesso ci spostiamo al fornello e completiamo la nostra preparazione. Il cioccolato è quasi pronto. Aggiungiamo la nostra noce di burro. Aggiungiamo il nostro tuorlo. Aggiungiamo il nostro tuorlo. Adesso andremo a riempire i nostri bicchieri. Lasciatela riposare un'ora in frigorifero e consumatela quando volete. Io resto a casa. Fatelo anche voi.